ciao ragazze benvenute nel mio podcast l'ora della mamma io sono natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità a volte scomode ma sempre reali ciao ragazze oggi con me ho lorenzo gasparrini che è filosofa e attivista antisessista o femminista come preferisci che dica femminista o antisessista lorenzo femminista è più completo ma insomma come vuoi grazie lorenzo è fondatore del blog questo uomo no dottore di ricerca in estetica ha lavorato per anni come docente universitario ed è autore di alcuni libri tra cui perché il femminismo serve anche gli uomini e non sono sessista ma di edizione itlon del 2019 e stavo per non aggiungere una cosa ma visto che intervisto tante donne e aggiungo sempre che sono mamme mi sembra giusto mi sembra corretto nei confronti delle mie ascoltatrici aggiungere che sei anche papà padre papà sì sì di due maschi grazie ti ho presentato bene tutto corretto sì sì tutto corretto lorenzo tu parli di femminismi al plurale ci spieghi perché così chiariamo subito questa cosa perché purtroppo della storia dei femminismi si sa molto poco nel nostro paese e quel poco molto spesso è in realtà frutto di luoghi comuni e di cose passate di persona in persona di parola in parola ma non del tutto vere e quello che scompare è proprio la ricchezza di una lunghissima storia di pratiche di teorie profondamente differenti tra loro che danno vita a un interessantissimo dibattito su alcune questioni molto importanti per la vita di tutti e di tutte chiamarli al plurale è un modo per rendere un po giustizia tutte queste diversità noi immaginiamo il femminismo come una cosa che è successa negli anni 60 e che in italia ha provocato tanto ha fatto tanto parlare di sé negli anni 70 è una cosa che in realtà si può far cominciare parecchi secoli prima ed è presente in tutto il mondo in modi molto differenti perché si tratta di strumenti per acquisire una libertà sociale civile politica che poi ciascuna realtà economica storica geografica vive e costruisce in maniera diversa il femminismo insomma per dircelo alla spiccia il femminismo delle donne bianche del nord Europa non è certo il femminismo delle donne islamiche dei medio orientali che è diverso dal femminismo delle donne del centro africa che è diverso al femminismo delle donne sud america proprio per tutta questa serie di motivi in ogni luogo in ogni momento storico ci sono differenti lotte da da fare che i femminismi più o meno io stavo guardando il documentario russo non so se hai sentito seguito la vicenda di navalni e di putin sì e c'era un punto in cui dicevano proprio si vedeva che essere femministi in russa è tuttora un insulto ma seriamente anche tra persone con dottorati pgd insomma è veramente incredibile beh può essere interessante ricordare che la prova femminismo nasce non come un insulto ma addirittura come una definizione medica si chiamava femminismo si pensava di chiamare femminismo quella malattia che aveva sembravano avere gli uomini quando si comportavano da donna diciamo si chiamava femmini veniva chiamato femminismo e poi la cosa è passata a invece quei movimenti politici che lottavano appunto per dare alle donne gli stessi diritti e le stesse libertà che avevano gli uomini cosa che sembrava alla fine del settecento inizio dell'ottocento qualcosa di profondamente scandaloso e quindi femminismo ha preso un'accezione negativa cioè di pensiero che fa comportare le donne come non dovrebbero e poi non è che è cambiata molto diciamo così la sfumatura negativa ne ha assunte diverse nel corso del tempo però ecco ci sono paesi nei quali dove effettivamente vale come un pesantissimo insulto personale come appunto qualcosa che è contro la tua natura qualcosa che è dimostruoso di impresentabile socialmente ecco così tu quindi con coraggio posso dirlo così ti definisci femminista per me è innanzitutto una sorta di come dire giustizia nei confronti delle cose che ho studiato e che cerco di fare nella mia vita si chiamano così le ho apprese da quella storia da quella tradizione da quel pensiero da quelle pratiche mi sembra giusto chiamarle così perché si chiamano così e in effetti poi proseguendo il discorso di prima ci sono paesi tradizioni culturali nei quali la parola non è più questa grande fonte di scandalo nel mondo anglosassone l'aggettivo feminist non è che da questi grossi problemi neanche nel mondo francese per quello che che ne so però ecco appunto bisogna sempre essere molto cauti perché in diversi in diverse situazioni storiche e geografiche la parola assume significati molto diversi e può essere accettato non accettato in modi molti diversi per esempio in italia la resistenza non solo degli uomini a definirsi femministi ma delle donne ad accettare che degli uomini si definiscono femministi è ancora molto alta perché l'italia ha avuto una tradizione storica di un certo femminismo molto profonda molto seria e tra l'altro l'italia è stata come dire per molti anni come dire modello guida per un certo femminismo nel mondo quindi ha una tradizione in questo senso molto forte ed è e si capisce diciamo sì perché ci siano queste resistenze è la resistenza che si si attua sempre di fronte a un cambiamento che sa di di epocale di profondamente storico e tu come rispondi quando ti dicono ma non ti vergogni oppure lo dicono persino a me sempre intelligente eppure sei femminista cosa così come fai a rispondere esatto no vergogno no perché appunto non c'è proprio nulla di cui vergognarsi anzi evidentemente la persona dice una cosa del genere non ha idea lui o lei di che cosa sia il femminismo perché non è davvero nulla di cui vergognarsi capisco che alcune per esempio alcune donne che hanno avuto un ruolo importante nel femminismo alcune donne che hanno vissuto appunto il femminismo di alcuni anni fa possano avere delle resistenze nel definirmi femminista e questo lo capisco perché se nasci cresci fai una certa attività politica cambi la tua forma di vita secondo certi certe cose in cui credi può essere difficile condividere questa definizione con chi effettivamente non è contemplato e non è compreso o non era compreso in questa tradizione storica e filosofica e questo lo capisco benissimo chi invece appunto dice non ti vergogni ma è una cosa sbagliata oppure chi dice che si tratta di cose estreme di estremismi di cosa evidentemente non sa veramente di cosa sta parlando e però capisco anche questo ripeto noi siamo un paese che ha che ha raccontato malissimo le battaglie civili delle donne le lotte delle donne come queste si inseriscono un movimento più globale di emancipazione di liberazione da un certo tipo di oppressione e quindi è più che normale che ci siano in giro dei pregiudizi e dei luoghi comuni assolutamente sbagliati riguardo il femminismo. E nel tuo libro libricino perché il femminismo serve anche agli uomini spiega appunto perché il femminismo serve anche agli uomini? Non si tratta assolutamente, va detto prima di ogni altro discorso, di fare paragoni diciamo così. Quello che cerco di dire in questo libretto è che gli uomini hanno tantissimo da imparare da questi movimenti di liberazione, da queste pratiche di libertà perché anche gli uomini si devono liberare da tantissime pregiudizie e luoghi comuni che loro stessi hanno sul loro stesso genere. I femminismi insegnano come si fa a liberarsi da queste oppressioni, come si fa a essere più liberi di definire il proprio genere e la propria identità di genere. E innanzitutto come si fa a rendersi consapevoli di averne una, che è già un grosso passo avanti. Certo perché si rendono consapevoli delle costrizioni che anche loro subiscono in una società patriarcale. Facciamo un esempio. Mentre per una donna, come dire, ci sono tanti esempi di femminità diversi e tutti leciti e perfettamente consapevoli che possono essere eseguiti, il modello della madre che cura la casa e la famiglia non è migliore o inferiore al modello della donna che invece si vede realizzata nel suo lavoro e non ci pensa neanche ad avere dei figli o ad avere una famiglia, oppure alla donna non eterosessuale che invece cerca di fare una famiglia, sì, ma con tutte le difficoltà che può avere in Italia il crearsi una famiglia omogenitoriale e così via. Per gli uomini per esempio questo è molto più difficile perché la loro tradizione, la loro figura tradizionale di uomo è molto più pressante e schiacciante. Fin da ragazzini agli uomini viene detto che si può essere uomini, si può essere maschi, solamente in un modo, cioè solo certe caratteristiche sono maschili, tutte le altre no. Quindi tu non devi piangere, devi riservare per te le tue emozioni, devi essere sempre duro, sempre forte, devi trovare un campo, un settore, un'attività nella quale devi essere il primo o comunque gareggiare tra i primi. Sei appunto in perenne competizioni con i tuoi simili per vedere chi è il migliore, il più bravo, quello che ha successo, devi avere successo. E tutta quest'altra serie di obblighi che ti vengono raccontati non come possibilità della tua vita, cose che puoi fare, cose che non puoi fare, ma come caratteristiche della tua identità. Ed è una cosa profondamente differente. Perché mentre le possibilità, io le posso cogliere, le posso non cogliere, ne posso scegliere una, ne posso scegliere un'altra e poi mi faccio il mio percorso di vita. Quando qualcosa si lega alla mia identità, se io non riesco a farla, io vado in crisi, mi sento male, sono un fallito, sono uno che non è riuscito, sono un mezzo uomo, sono un uomo che non vale niente. Ed è qualcosa di molto più difficile da gestire. Proprio perché appunto questa cosa mi è stata raccontata che fa parte della mia identità biologica. Per il fatto che sono nato così col cromosoma XY e me tocca, fa tutta una serie di cose che se io non le faccio non sono abbastanza uomo, non sono un vero uomo. E questa è una costrizione fortissima. Ed è difficile far capire agli uomini che si tratta di un'imposizione del tutto culturale, che non è affatto iscritta nel loro DNA. Si tratta di una società che ti racconta le cose in questo modo e te le racconta con uno scopo ben preciso. Per esempio per farti lavorare come un dannato tutta la vita, per farti lavorare al successo economico di qualcun altro, per costringerti ad avere dei rapporti, delle relazioni superficiali in realtà, mai troppo indagate dal punto di vista dei sentimenti perché questo ti potrebbe portare via energie e forze per gli scopi sociali della tua vita. Ti viene raccontato per esempio che tu non sei adatto a lavori di cura, a lavori di relazione perché sei un uomo e gli uomini queste cose non le sanno fare, non sono capaci. Il testosterone, qualunque cosa c'è. Sì, ecco, c'hai questo testosterone che sembra sia, come dire, il dominatore della tua coscienza e del tuo cervello, per cui purtroppo c'hai questo ormone in giro e che oltre a essere responsabile di una certa tua forma fisica è anche responsabile di un tuo modo di vedere il mondo, di una tua capacità o non capacità di prendere alcune decisioni, assurdità, ormai smentite anche scientificamente in tutti i modi, che però rimangono fortissime perché alternative a questo modello sono ancora tutte da costruire, sono molto difficili da costruire perché intorno c'è intanto una cultura che continua a raccontare tutto il contrario, cioè appunto una maschilità tradizionale. Poi vorrei aggiungere che è un libro da leggere sia per le donne che per gli uomini, perché le donne, secondo me questo messaggio non passa sempre, le donne sono tanto sessiste quanto gli uomini, quindi in questo caso, ricollegando a quello che hai detto tu, anche una donna potrebbe far sentire in quel mondo l'uomo, devi lavorare e portare a casa la pagnotta, oppure la libido è più bassa se tu non sei così, queste cose sono... Anche questo è raccontato ormai da tanti anni, da tanti femminismi che però se noi non li stiamo a sentire non lo sappiamo. Il sessismo è un'arma, una strategia sociale a disposizione di tutti e di tutte, non è che la fanno solo gli uomini nei confronti delle donne, siccome è uno strumento di potere efficace, lo usa chi ne ha bisogno per conseguire i suoi scopi. Quindi se è vero che tradizionalmente lo usano sicuramente di più gli uomini per ottenere dei vantaggi sociali nei confronti delle donne, è altrettanto vero che alcune donne possono trovare vantaggio sociale in determinate posizioni anche subordinate o possono usare questo strumento contro altre donne che secondo loro gli tolgono qualche potere o ne disturbano la forma di vita e quindi adoperano questa discriminazione sul genere, per esempio imputando a qualcuno di non essere abbastanza uomo, di non corrispondere all'idea che loro hanno di uomo e quindi non esserlo. Ecco che di nuovo c'è questo salto tra delle caratteristiche che possono far parte di un gusto personale all'identità. È un passaggio che purtroppo si fa con grande leggerezza ma che invece è durissimo e pesantissimo. Non ci si accorge di quanto si fa male, sicuramente molto di più capita dagli uomini verso le donne ma capita anche il contrario, come capita tra persone non etero, come capita, ripeto, si tratta di uno strumento che ti dà una forza contro qualcuno e quindi lo si adopera tranquillamente purtroppo tutte le volte che qualcuno ha bisogno di far sentire il suo potere su qualcun altro, a prescindere dal genere e dall'orientamento. Sì, hai detto anche tra donne, quindi la famosa guerra tra poveri. Anche questo e tanti femminismi, soprattutto per esempio sui luoghi di lavoro, negli ambienti professionali l'hanno descritta molto bene, quella mostruosa figura che è la donna con le palle, che è una metafora che già da sola direbbe tutto, cioè siamo così poveri di aggettivazioni, di caratteristiche da dare a una donna quando dimostra di essere volitiva, capace di agire, capace di prendere decisioni, insomma si è responsabilità che gli dobbiamo proprio letteralmente appiccicare i genitali di che non ha. Questo è un modo di dire che già racconta tutta una lunghissima storia e dovrebbe in effetti illuminare e far capire che non stiamo parlando di qualcosa che è attaccato addosso alle persone quando nascono, appunto come se facesse parte del loro correddo cromosomico, parliamo di ruoli sociali e quindi di cose che in realtà si possono facilmente cambiare, come sono cambiate molto spesso nella storia delle nostre culture. Eppure c'è una resistenza fortissima a cambiarla. Quando si parla di violenza maschile, per esempio si usa questo aggettivo e gli uomini rispondono spesso rimbruttando, ma no ma che vuol dire maschile, io sono maschio ma io non sono violento. Quell'aggettivo non si riferisce appunto a tutti quelli che nascono e XY, a tutti quelli che nascono con una certa cosa tra le gambe, no, si riferisce a una caratteristica sociale ad un'immagine del maschile molto diffusa, anzi la più diffusa nella nostra società. È quella immagine che va combattuta, è quello stereotipo che va combattuto, è quel modello che va cambiato, no, i singoli uomini in sé per sé. Ed è questo il motivo per cui io quando purtroppo vengo a sapere di una brutta notizia di cronaca o di qualcosa successo a qualcuno che conosco, che rientra nella violenza di genere, non è che io me ne devo chiamare fuori dicendo beh ma io non sono così, quello è matto, quello è pazzo, quello ha avuto un momento di debolezza, oppure peggio ancora quello è stato provocato da lei, quello è stato... sono tutte scuse che mi racconto per non assumermi una responsabilità che si chiama responsabilità di genere. Cioè per capire che in realtà quel comportamento tutto sommato potrei averlo avuto pure io, perché io sono stato educato, sono stato raccontato, sono cresciuto con quegli stessi valori maschili. E quindi quello che è successo a quello lì, ma tutto sommato potrebbe succedere anche a me. Ecco perché mi devo impegnare a fare sì che questa idea di maschile cambi. No, non mi devo impegnare affinché non si usi più questa parola, perché poi non cambio le cose, cambio le parole e le cose rimangono quelle. Io devo fare sì che questa parola assuma un altro significato, avendo un altro comportamento, cercando di sviluppare un altro modello di maschile. E come ti impegni? Per esempio, tu hai due figli, io una bambina, le persone che ci ascoltano spesso, quasi tutte hanno bambine, hanno figli, sono madri, padri e mi chiedono come faccio a crescere un bambino, una bambina femminista. Ho anche fatto una puntata con Carolina Capria su come crescere bambine femministe seguendo anche il libro di Cimamanda, non so se l'hai letto. Sì, certo. E lo consiglio, eppure le mamme di maschi mi dicono no, 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 io voglio un libro specifico per i maschi. Allora, va beh, adesso così, chi vuole può leggersi i miei libri, ma insomma non è obbligatorio. Però io, come dire, è importante ricordare una cosa. Se crediamo che appunto esista una ricetta e me sa che allora di nuovo non abbiamo capito niente di qual è il problema. Io faccio questo ai miei figli. Che siano più o meno femministi mi importa fino a un certo punto. È una scelta che possono fare quando gli pare nella loro vita. Quello che mi impreme fare loro è educarli a essere sensibili agli abusi di potere, sensibili alle oppressioni, sensibili ovunque esse si manifestino. Sia per quanto riguarda discorsi di genere che per altri. Quando racconto un episodio che poi ho raccontato anche in un mio libro. Quando Andrea mi tornò una volta dalla scuola dell'infanzia, facevo l'asilo, tutto arrabbiato, tutto imbaronciato, io gli chiedo a Andrea ma che c'è, che è successo? E lui mi risponde odio tutte le femmine. Ho detto so, va bene, cominciamo bene. E dimmi perché? Perché non mi fanno giocare con la cucina. Ah, allora siccome questo episodio succede un po' di volte, beh insomma alla fine andiamo a parlare con la maestra e la maestra ci racconta molto tranquillamente che quando è ricreazione lei mette i bambini a giocare con le macchinette e le costruzioni e le bambine a giocare con la cucina e le bambole. Quindi quando Andrea prova ad andare a spostarsi, come dire, a superare questo confine e andare a giocare con la cucina trova resistenze delle bambine ma pure della maestra. Io provo a dire, ma maestra, casa nostra, chi arriva prima la sera a casa cucina per quegli altri, quindi insomma Andrea vede anche me cucinare, quindi gli sembra normale prendere le pentole, le cose, fare quello che fa papà. Non c'è niente di... provo a prenderla un po' alla lontana, no? E la maestra risponde, ah va bene, allora non c'è problema. Se mi dice che Andrea insomma lo fa anche a casa, da domani Andrea può giocare con la cucina. Wow! Solo lui. La sorellella descrizione. Esatto. Allora, poi questo episodio fa capire una cosa molto importante. Innanzitutto appunto io ho educato Andrea a essere sensibile a queste forme di... cioè a essere capace di far suonare un allarme quando qualcuno sta prendendo una decisione che non va, sulla base di qualcosa che non è giusto, diciamo così. E questo è già importante. Perché poi una volta sollevato il problema si fa presto a capire, come dire, dove sta l'errore. E l'errore sta purtroppo per esempio in un'insegnante che decide che ci sono giochi per maschi e giochi per femmine e quindi divide, ed ecco lì la discriminazione, un gruppo in due categorie che in realtà non avrebbero alcuna ragione di sussistere lì, in quel momento e per quell'attività. Questa è una, come dire, un modo, è una metafora che può essere valida anche in tantissime altre situazioni, sul lavoro, nello studio. Ed è questo io credo che dovremmo soprattutto fare o cercare di fare ai nostri figli e alle nostre figlie, farli diventare sensibili a questi problemi di potere. Quando qualcuno decide per te una cosa che invece dovrebbe essere una tua decisione, dovrebbe rientrare in una tua possibilità e invece decide sulla base di cose che tu non hai scelto, che a te non sono state chieste. Questa è una prima forma di sensibilità che può essere molto facilmente insegnata, che non vuol dire affatto insegnare ai bambini e ai bambini a fare quello che gli pare, per carità, ma significa appunto insegnarli a discutere e riconoscere gli spazi di libertà di ciascuno e difendere con forza il proprio, quando qualcuno ci mette, come dire, una parola che non dovrebbe o un gesto che non gli compete. Questo li farà crescere sicuramente dei gran rompiscatole, ma alla lunga delle persone è in grado di appunto distinguere che cosa è una discriminazione e che cosa invece è una libertà che è giusto concedere a qualcun altro. Quando in un altro dei miei libri mi sono sforzato di analizzare la difficoltà che hanno gli uomini ad accettare un rifiuto, si capisce molto, non lo dico solo io, sulla base di studi e altre esperienze fatte, che è una questione di disabitudine appunto a vedersi, come dire, a confrontarsi con altri spazi di libertà. Molti uomini si arrabbiano profondamente quando una donna gli dice di no, non perché immaginano che quella sia una libertà che un altro soggetto si può prendere, un'altra soggetta si può prendere, di dire di sì, di dire di no, ma come se fosse di nuovo un attacco alla propria identità, perché se lei mi dice no mi sta negando o qualcosa che mi spetta o mi sta proibendo una cosa che io in fondo, tra virgolette, mi sono guadagnato. Questo modo così particolare di non vedere certi abusi di potere quando accadono è purtroppo una cosa che si impara molto presto. Ecco perché io insisto molto su quanto è importante la componente educativa, perché poi cambiare le cose quando sei adulto e quando hai già costruito molto la tua identità è molto più difficile. Agire nelle scuole, agire nell'adolescenza sarebbe un grande aiuto poi per gli anni futuri delle persone e della società tutta. Ma è ancora molto difficile da fare in Italia. Sì, a quello che ho capito, tu intendi che la discriminazione di questo tipo, queste dinamiche nascono praticamente da subito, dalla nascita, no? Cioè noi siamo abituati a trattare i maschi in un modo e le femmine in un altro. E nessuno si deve sentire in colpa di questo, perché se c'è intorno una cultura che ti racconta questa cosa, è ovvio che la fai anche tu. Poi a un certo punto uno deve accorgersi che oh, però questa cosa produce degli effetti deleteri e quindi fermiamola e facciamo in un altro modo. Deve essere una decisione, diciamo così, sociale. Non è che basta uno che fa un bel esempio e poi sono cose che dovremmo riuscire a fare tutti e tutte. Ci si accorge fin da subito, appunto, da genitore ti accorgi subito che qualcuno ha deciso che certi colori sono per le bambine e certi colori sono per i maschi e a qualcuno sarà venuto in mente, ma com'è sta cosa? Chi l'ha decisa? Quando? Ecco, quando scopri che effettivamente è stata proprio decisa da qualcuno, in un certo momento preciso e che prima il rosa, per esempio, all'inizio del secolo, era il colore della virilità, era il colore della maschilità. Non ci credo. Come non ci credi? Ma perché il giornale sportivo più diffuso in Italia è di colore rosa? È vero, sì. Nessuno se lo chiede. Il lunedì mattina tutti questi uomini vanno là a comprare questo giornale rosa, ma mica se lo chiedono perché questo giornale è rosa. Perché ha organizzato da più di cento anni la corsa per eleggere il ciclista più forte d'Italia, perché ovviamente all'inizio la corsa era solo per uomini, il giro d'Italia, e gli si dava la maglia con il colore della virilità, il colore rosa, la maglia rosa. Perché quello era il colore della virilità? Perché quando nacquero le prime organizzazioni sportive, diciamo così, che organizzavano il tempo libero degli uomini che dopo il lavoro avevano questo tempo da spendere, si dava un'attività sportive che riproducevano in un certo senso certe logiche di scontro, si adottò un colore che richiamasse quello degli ordini militari, quello dello scontro per eccellenza, che era lo scontro militare, ma più attenuato. Invece del rosso, il rosa. Il rosa era il colore di quasi tutte le società sportive degli inizi del Novecento, qualcuna è rimasta, Palermo, la prima maglia della Juventus, tanto per dire il calcio, e altre cose. Purtroppo non abbiamo foto a colori di quegli anni, ma se uno si va a leggere i giornali scopre che il rosa era il colore dello sport maschile, proprio perché contraddistingueva questa particolare funzione civile dell'attività ginnica, diciamo così, e dell'attività sportiva. Poi a un certo punto sono arrivati i pubblicitari americani dopo la Seconda Guerra Mondiale e hanno scoperto una cosa ancora molto vera, che se io lo stesso prodotto lo confeziono in due modi differenti e ci scrivo per uomo e per donna, ne vendo il doppio. Ed è una cosa che funziona ancora molto bene con un sacco di prodotti. E decisero di adottare questi due colori, rosa e blu, sulla base di alcune loro considerazioni estetiche che avevano fatto guardando la tradizione artistica di un certo periodo. Una scelta assolutamente arbitraria. Siccome però, in virtù di quello che successe appunto dopo la Seconda Guerra Mondiale, i prodotti americani erano praticamente, come dire, gli unici che si trovavano sul mercato, perché tutto il resto del mondo era a ricostruirsi dai danni della guerra, si è, come dire, imparato a riconoscere le cose per uomo e le cose per donna dalla presenza di questi due colori. E noi adesso pensiamo che se un uomo si mette una felpa rosa, o un giacchetto rosa, vuole significare qualche cosa riguardo la sua identità sessuale, che è una cosa di una imbecillità unica, però, come dire, il peso della cultura è così forte che è difficile resistere a questa suggestione. Tant'è vero che è molto difficile per un uomo che vuole comprare per sé un abbigliamento rosa. Non è facile da trovare, non si trova. Di nuovo, dici sempre lui, l'altro mio figlio un bel giorno ha espresso il desiderio di comprarsi una felpa col cappuccio rosa. È stata dura da trovare, alla fine ce la siamo dovute comprare sul web, perché in giro per i negozi non si trovava. Tra l'altro stavo pensando dove ho visto, dove ho visto. Mi è venuta in mente questa pagina del Ghana che seguo. In Ghana, come anche in India, il rosa è un colore per maschi e femmine, come il verde per noi. Quindi, se vai in India o in Ghana, adesso crea anche altri paesi africani, vedrai un bambino con lo scooter rosa e sarà una cosa normalissima. Non appena cambia, come dire, il contorno, l'ambiente culturale, questi valori cambiano, perché sono valori culturali, non c'entrano nulla con l'identità sessuale, con il proprio comportamento di genere. Però noi siamo così condizionati che non riusciamo a staccare queste scelte da quello che invece pensiamo essere l'identità di genere di ciascuna e di ciascuna. Poi, se vuoi insultare un padre, devi magari regalare una tutina al suo maschio neonato rosa. Ecco, fatto. Perfetto. La grande parte dei papà si arrabbierà tantissimo. Certo. Ed è incredibile come quegli stessi papà, per esempio, che dicono di non essere adatti a fare certi lavori o a prendersi cura, in un certo modo dei propri figli, specie appena nati. Non gli viene in mente che da quando loro sono stati educati, loro usano il loro corpo sempre a tutta forza, col massimo della loro energia, sul lavoro, nello sport, a volte anche nel sesso. E quindi, come dire, non sono abituati a regolare la loro forza. Quando hanno a che fare? Per la prima volta nella loro vita, con un corpo di un bambino, di una bambina appena nata, che ovviamente invece, come dire, devi trattare in un certo modo, regolando la tua forza, scoprono che non sono capaci. No, non è che non sei capace, è che non ti è mai stato chiesto di fare una cosa del genere prima. E molti si sentono inadeguati, si sentono spaventati e reagiscono magari anche male di fronte a questa possibilità. Perché in realtà si tratta davvero di qualcosa di nuovo. Ed è incredibile questo, che si è arrivati a una certa età prima di capire che il tuo corpo non l'hai mai usato in un certo modo. Non ti è mai capitato di doverlo usare con delicatezza, regolandolo, adattandolo ai bisogni e all'esigenza di un altro corpo. Scoprirlo a 30, 40 anni è durissimo. È una difficoltà, a volte insuperabile, perché in effetti può essere anche insuperabile. Però, ripeto, succede semplicemente perché non l'hai mai fatto prima. Quando tanti uomini... E poi giustifichi questi uomini che dicono no, 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 fino ai due anni io non me la sento. Sono quegli stessi uomini a proposito di discriminazioni che quando vedono un operatore di nido di infanzia uomo portano via il figlio da quel nido. Già. Questo è un problema, è una discriminazione incredibile. L'Italia ha una scuola di pedagogia infantile di livello mondiale e produce degli ottimi operatori di nido di infanzia, uomini, che in Italia non riescono a lavorare. Perché quando una famiglia vede che c'è un uomo a trattare il loro bimbo, la loro bimba appena nati, non si fidano. Hanno una resistenza tale e non... chiedono che non sia lui a trattare il loro figlio, chiedono di andare in un altro posto, chiedono perché, perché c'è quello lì. Come perché? Oh, quella ha studiato, ha lavorato, cioè come perché? È uno preparatissimo nel suo lavoro. Queste sono poi conseguenze sociali molto grave, perché questa è una classica discriminazione. Tanti e tante chiedono perché non ci sono i maestri alla scuola elementare? Perché? Perché se tu il lavoro di scuola, soprattutto a livello basso, continui a considerarlo qualcosa di scadente, di poco interessante, di poco stimolante, è gli uomini ai quali insegni che invece non avrebbero grande successo e non faranno mai quel lavoro perché gli dici che è un lavoro che non è adatto a sé, a loro identità, e non lo fanno. Poi ti lamenti che non ci sono più i maestri. Anche questa è una cosa cambiata. Nel libro cuore erano tutti i maestri. Allora che è successo? È successo che certi valori cambiano purtroppo e noi non ci rendiamo conto che non sono affatto appiccicati ai generi, ai sessi, alle identità. Sono raccontati culturalmente in un certo modo e purtroppo le discriminazioni agiscono proprio così. Dall'ambiente anche. Mi viene in mente il messaggio di una mamma che mi ha scritto qualche giorno fa, mi ha detto Natalia ma come faccio? Io ci provo, ma poi mia suocera è venuta l'altro giorno, ha visto il nostro bambino, il bambino di due anni, due o tre anni, non so, che giocava con uno straccio e puliva la casa, no? E la suocera l'ha insultata o quasi, tu stai rovinando il bambino o il maschio, il maschietto, una cosa così. Come si fa? Come si fa a rispondere? Come si fa a non abbattersi, no? Di fronte. Io, però, lo dico sinceramente, per me è facile pensare a una risposta di questo tipo. Io sono un uomo e la prima cosa che mi verrebbe da dire a questa suocera è dico ah grazie, non ti viene in mente che quello ripete il gesto che vede a me fare tutto il giorno e l'uno mi dici senti ma tu pulisci tutto il giorno che tuo figlio gli viene in mente di giocare perché questo è quello che succede in realtà. E la suocera se a cuore qualcuno dovrebbe, come dire, spaventarsi di questo forse che se lo vede fare al piccolino evidentemente qualcuno davanti al piccolino lo fa tutto il giorno. E allora, cara suocera, ti dovresti magari preoccupare di questo e non di quello che io insegno. Io non insegno nulla ma è quello che lui vede e sinceramente a pulirsi la propria casa non c'è niente di male. Non si capisce perché un uomo non lo dovrebbe fare. Mi fa venire in mente un'altra risposta che fui costretto a dare in una occasione pubblica. Come faccio a insegnare ai miei figli a fare la pipì seduti? E gli ho detto guardi, io l'ho imparato in tarda età quando sono andato a vivere da solo e quando il bagno me lo pulivo io. Ah! Ecco, allora ero io il primo a dire ai miei amici ragazzi se volete fare pipì a casa mia gentilmente la fate seduti perché a me non mi va di pulire la roba vostra. basta poco per smontare completamente ogni argomento legato al genere perché il genere nella maggior parte di questi argomenti non c'entra assolutamente nulla. Risaliamo la strada del potere chi è che comanda chi è che influisce chi è che e troveremo anche le risposte giuste sia quelle da dare agli amici che quella da dare ai figli grandi ai figli piccoli alle suocere e poi come dire ricordiamoci che nessuno è un missionario in questo senso cioè se qualcuno non vuole capire come si dice i sordi con i sordi si può comunicare con chi non vuole sentire no non c'è proprio speranza e quindi non ci si deve battere oltre un certo limite perché se qualcuno non vuole proprio sentirci da quell'orecchio non vuole proprio capire che non si tratta affatto di ecco come pensava questa suocera di snaturare qualcuno non è che snaturi qualcuno se gli insegni a pulire casa magari rispetterà anzi forse meglio il lavoro di qualcun altro se lo fa anche lui quello che andrebbe quello che non andrebbe snaturata sarebbe la mia vita che la passo a pulire casa forse quello sarebbe un po' più da discutere esatto ma quindi quant'è responsabilità dei genitori o meglio delle madri diciamo nel crescere bambini in un certo modo quindi in questo caso femministi o responsabilità di tutto un contorno dell'ambiente sociale culturale e altri condizionamenti bisogna hai una considerazione sicuramente amara da fare come genitore perché la faccio anche io non con la tua madre ma in quanto appunto genitore in quanto padre le responsabilità ci sono ma vanno anche in un certo senso condivise con la società che hai intorno perché ovviamente è vero che tu sei il genitore di tuo figlio ma tuo figlio nasce in un ambiente nasce in una determinata circostanza storica nasce parlando una certa lingua nasce e tutti questi depositi culturali agiscono su di lui come hanno agito su di noi come hanno agito sui nostri genitori come hanno sempre agito per cui ecco quello che io dico è che non bisogna come dire sforzarsi troppo perché può risultare frustrante di ottenere certi risultati diciamo così nei nostri figli nelle nostre figlie diamogli degli strumenti affinché loro ottengano dei risultati quello è quello che io cerco di dire anche con quell'esempio che abbiamo fatto prima di quel tipo di sensibilità tu dagli uno strumento e poi lui in un mondo che sicuramente sarà diverso dal mio sarà diverso dal tuo sarà diverso dal nostro imparerà a usare questo strumento in un'altra circostanza faccio un esempio ma veramente è un esempio per dire se tu gli insegni questa sensibilità verso il potere usato male questa cosa la potrà usare anche per esempio nei social network quando si accorgerà che una certa comunicazione che certe parole fanno male oltre un certo limite non ci sarà bisogno che gli proibisci qualcosa sarà lui che si terrà fuori da certi luoghi si terrà fuori da certi ambienti perché capirà che lì agiscono forse che a lui non piacciono proprio per niente quando tu gli metti a disposizione degli strumenti poi lui agisce quando e come vuole ecco invece di dirgli che lo straccio per pulire non è roba sua gli insegni che lo straccio serve a questo e a quello se tu vuoi dare una mano a mamma bene ma non è che sei obbligato quando gli spieghi questa cosa si ottengono dei risultati stupefacenti invece di obbligare ecco all'ordine della stanza fategli capire quanto è più vantaggioso avere le cose in ordine e trovarle e non perdere tempo quando non si sa dove stanno e voler scattare di casa perché troppo incasinato ecco come dire è una intorno soprattutto con le mamme hai intorno una società che ti dà un'enorme pressione affinché tu sei quella che deve insegnare questo e quell'altro e tu sei responsabile se tuo figlio non fa questo e quell'altro non è sempre così lo so che per me è facile dirlo ma non sono io l'unico a dirlo tante altre donne lo hanno detto l'hanno sempre detto non si vive isolati c'è una responsabilità sociale tu dai devi cercare di dare come genitore degli strumenti affinché poi anche loro si sappiano quando è il caso difendere da certe pressioni sociali prima o poi il ragazzino la ragazzina risponderà pure lui pure lei ai nonni cioè alla suocera certe cose perché quando le avranno capite saranno i primi a dire e poi la suocera magari tornerà da te e ti dice ah belle cose gli hai insegnato a tuo figlio eh ho capito sì gli ho insegnato belle cose sì abbia pazienza perché se sbagli con me sbagli pure con loro non c'è nulla da fare guarda ti racconto un brevissimo una brevissima cosa che è successa con mia figlia lei ha quattro anni e mio suocero è un uomo austriaco io vivo in Austria mio marito è austriaco è uno di quegli uomini che non ha mai toccato nulla in cucina ok c'è niente proprio non sa neanche bollire un uovo nulla ok e mia figlia a mia figlia invece piace cucinare con la nonna e quindi ha fatto questa pasta non so con le zucchine e mio suocero stava mangiando la pasta e le fa eh ma non c'è sale non è abbastanza salata mia figlia si è alzata e gli ha detto la prossima volta cucini tu ecco ti piace cucini tu e ti dico a quattro anni al che sono scoppiati a ridere però c'è anche questa differenza tra generazioni mio suocero non gli direbbe mai una cosa del genere la figlia si queste sono differenze non solo importanti ma ecco che la piccola ha capito chiaramente che se una cosa che ho fatto non ti piace ci sono tanti modi per dirlo e il nonno ma per carità non perché è maleducato sicuramente ma per sua abitudine l'ha espressa nella maniera in cui gli è abituale a lei che non ha fatto questa abitudine questa cosa è suonata molto male è suonata come un attacco personale e lei ha reagito a un attacco personale forse la verità sta un po' nel mezzo noi spesso ci abituiamo a subire attacchi personali che non sarebbero affatto leciti o che non starebbero affatto nelle cose diciamo così e tanti femminismi insegnano proprio questo a riconoscere anche questo quando qualcosa è oltre diciamo così i limiti di una critica sensata quello che io ripeto secondo me va insegnato ai più giovani è questo questi strumenti e queste sensibilità poi loro sapranno quando e come adoperarli è chiaro che lei ha 4 anni risponde al nonno così poi crescendo capirà pure che il nonno va rispettato risponderà in un altro modo ma non cambierà molto che io credo il senso della sua espressione diciamo così troverà un modo magari più carino per esprimerla ma insomma sarò sincero secondo me l'ha imparato da me infatti devo ignorare ma Lorenzo tu invece sei cresciuto in un ambiente così all'avanguardia femminista è per questo che no assolutamente no la mia è stata una scoperta molto tarda negli anni di università quando in maniera del tutto casuale ho incontrato dei testi femministi che per un motivo ripeto del tutto casuale erano molto vicini ai miei interessi di laurea perciò sai quando ti stai laureando non leggi un po' di tutto vai girovagando cercando cose che ti possano aiutare li portavo ai miei ai professori i miei relatori insomma che dovevano indirizzarmi e mi sentivo dare delle risposte che trovavo veramente assurde questa non è roba per te questa non è filosofia queste sono cose da donne queste cose mi sono sembrate subito assurde ma non come diciamo così dispute accademiche no sai quello che dice che quell'altro non è capace vabbè ci sta insomma più o meno lo vedi succedere ma ho avuto la netta percezione di un problema molto più profondo cioè qui c'è qualcuno che proprio non vuole come dire fare entrare queste altre visioni che non vuole permettere questi altri discorsi che non vuole ammettere l'esistenza di questo discorso critico sulle proprie cose e ce l'avevo preso in effetti è proprio così andando avanti ho capito che sì l'atteggiamento era proprio quello un vero e proprio istruzionismo nei confronti di certi studi di certi discorsi di certe teorie e anche di certe pratiche che avrebbero messo in discussione un certo tipo di potere e questo mi ha fatto effettivamente cominciare ad aprire gli occhi quindi poi per conto mio ho continuato questi studi e ho anche come dire cambiato alcune mie pratiche di vita il mio linguaggio il mio modo di pormi il mio modo di tenere relazioni con altre persone fino a che non ho effettivamente capito che poi da filosofo ho detto beh questa è proprio la cosa che devo fare perché se mi stanno a cuore i problemi di tutti come dovrebbe essere sempre per un filosofo allora me devo proprio occupare di questa cosa qua e l'ho fatta diventare la mia occupazione non principale perché ahimè non ci si campa di queste cose in Italia però comunque quello che posso fare lo faccio vedi però non ti hanno indirizzato i tuoi genitori quindi c'è speranza per tutti no no ma no ma no ma perché ripeto ma per quel motivo culturale che dicevamo prima ma in Italia mi sembra incredibile che ci siano dei genitori almeno ovviamente io sono uno del 72 parlo dei miei anni no e quindi appunto che potessero esistere qua più di 40 anni fa le situazioni di questo genere mi sembrano piuttosto assurdo beh adesso beh no mi sembra che sia proprio ora invece di far entrare questi discorsi nel vissuto genitoriale di tutti e di tutte sì sono d'accordo parliamo invece del cosiddetto carico mentale delle donne qualche giorno fa ho fatto ho parlato del carico mentale sui social media e la cosa è proprio esplosa è iniziata da una parte le donne che vanno contro le donne perché non sanno scegliersi gli uomini dall'altra parte gli uomini che mi scrivono no ma mi permetti voi avete voi avete tutto il potere siete le uomini della casa gli angeli del foco mare insomma la questione del carico mentale è ancora difficile da spiegare è difficile da capire anche per le donne non soltanto per gli uomini eppure e comunque mi sembra che anche gli uomini più illuminati illuminati passami il termine quando diventano padri è come se ma alla fine sto patriarcato non mi sembra così male e te credo e grazie e vedi un po' che gli dà pure fastidio allora cominciamo proprio da queste da queste frasi che ti dicono ma nessuno riflette mai abbastanza su quanto è contraddittorio quanto è ridicola un'espressione come regina della casa un potere immenso in uno spazio minuscolo che me frega di essere regina della casa non conta niente la regina della casa c'è un mondo intero di fuori che me frega di essere regina della casa o che è poi analogo angelo del focolare creatura soprannaturale capace di qualunque cosa qui in questo ristretto ambito spaziale ma è una presa in giro è chiaramente una presa in giro e purtroppo funziona pure da parecchi secoli ahimè nel mondo là fuori invece ci sono gli uomini i condottieri i cavalieri quelli che se ne vanno in giro a prendere tutto quelli che se ne vanno in giro a dominare il mondo e nel frattempo te fai la regina dentro casa mi sembra come dire una iniquità che si presenta da sola per quanto riguarda il carico mentale mi sembra assolutamente ovvio che chi non ce l'ha mai avuto dica che questa cosa non esiste ma proprio perché per gli uomini è molto difficile ammettere i propri condizionamenti perché se io come dire la prima cosa che devo ammettere nel discorso che riguarda il condizionamento mentale e il carico mentale alle donne è appunto non tanto che io non me ne accorga ma che io non me ne posso accorgere perché per come sono stato educato in quanto maschio a svolgere i miei ragionamenti a mettere in ordine le mie priorità di vita a svolgere le mie operazioni quotidiane io letteralmente non mi posso rendere conto di questo carico perché è una cosa che comincia di nuovo da quando sei bambino io non sono stato abituato a stare attento a dove vado stare attento a chi frequento stare attento agli sguardi alle parole altrui che mi possono giudicare gli uomini non si mettono davanti allo specchio perché non si sentono mai soggetti a uno sguardo altrui tutto questo non gli è mai capitato nella loro vita quindi è ovvio che poi quando tu glielo dici oh guarda che la mia vita è fatta così ti dicono ah non è vero non è vero non è che non è vero che ne sai te non ce l'hai mai avuto questo corpo non sei mai stato soggetto a questi condizionamenti quindi letteralmente non li sai non li puoi capire ed è purtroppo proprio la verità allora il problema è già una frase tremenda come non ti sai scegliere un uomo da una parte c'è questa immagine di fiera campionaria nel quale passano questi uomini su un nastro trasportatore io ne scelgo uno boh si capisce come funziona così secondo c'è questa idea che tu non hai un desiderio che cerchi di assecondare non hai una un felice incontro da assaporare insieme scegli hai una hai una no gerarchia di caratteristiche esattamente come si fa con i capi di bestiame e questo è esattamente lo sguardo maschile quel maschile che abbiamo definito prima lo sguardo patriarcale esattamente come gli uomini giudicano il corpo delle donne a pezzi come si fa con il bestiame il garrese la dentatura l'altezza delle spalle la consistenza muscolare gli uomini fanno la stessa cosa le gambe il seno i fianchi le misure 90-60-90 altezza mezza bellezza un insulto appunto e allo stesso modo le donne ti dicono ti devi scegliere un uomo ovviamente non non sia mai per le sue a meno quelle per le sue caratteristiche fisiche no devi scegliere perché è responsabile ha successo di nuovo una lista di caratteristiche che nessuno si domanda se corrispondono effettivamente a quello che ti va a te a quello che ti piace a te a quello che vuoi per te no c'è una lista di caratteristiche ben definita che la società intorno a te definisce come la cosa migliore e se tu non fai quello sei una fessa oppure se tu vale anche per gli uomini ovviamente non ti scegli di nuovo non ti scegli una donna così sei un cretino se non si ha la forza di riconoscere questi come condizionamenti sociali e ambientali è chiaro che sarà difficilissimo venirne fuori e ammettere quando qualcuno te li fa notare ehi guarda che queste cose funzionano così me ne sono accorta me ne sono accorto e poi ci sono ormai fior di studi e di analisi che te lo dicono è chiaro che dall'altra parte c'è chi ti risponde no perché dovrebbe stravolgere completamente il modo in cui vede il mondo ed essere disposto a fare un passo indietro ascoltare e dire ma sa che un certo fondamento in questa cosa c'è ma è ripeto molto difficile perché proprio in quanto si tratta di discorsi che arrivano immediatamente a colpire la tua identità di genere tutti sentono che sono discorsi molto fondativi che colpiscono molto in profondità e quindi è ovvio che la prima reazione che hai è molto difensiva e tra virgolette diciamo sì ci sta che la reazione immediata sia molto difensiva poi però bisogna avere la pazienza di stare lì e far vedere che non si accusa di niente nessuno non si tira la croce addosso a nessuno non si distribuiscono colpi a nessuno proprio perché è una questione sociale bisogna condividere insieme questo problema bisogna notare che tutti insieme ne siamo soggetti e soggette non è che io sono più bravo e ti vengo a dire a te guarda che cratino ti sto dicendo abbiamo un problema ce l'ho io ce l'hai te e non conta tanto chi se ne accorge prima chi se ne accorge dopo conta che ci mettiamo insieme a fare qualche cosa per questo problema assolutamente sono d'accordo è molto difficile anche per le mie coetanee le donne trentenni appena mamme sposate da poco femministe loro si considerano femministe sono femministe e poi dopo il primo figlio si accorgono di non avere uomini che la pensano come loro vicino perché questi uomini non vogliono o comunque hanno questa resistenza resistenza esatto questa resistenza e le riconosco sai al prendersi cura a prendere le reddite della situazione a fare un passo avanti comunque sono sforzi e come si fa come si fa per noi non riescono a capire purtroppo quanto si perdono in questo atteggiamento innanzitutto e quanto sia invece molto più salutare per tutti e per tutte uscire da questa logica del cosa ci guadagno cosa ci perdo molti uomini vedono nel diventare genitori una perdita di libertà una perdita di autonomia una perdita di capacità decisionale una perdita di forma fisica e di sonno vedono tutto in perdita ed è una visione davvero triste di tutto quello che succede è semplicemente un totale cambiamento un totale stravolgimento e questo non vuol dire perderci o guadagnarci bisogna sforzarsi di uscire fuori dalla logica della perdita e del guadagno perché è una logica che forse può andare bene per le aziende per la vita delle persone no quello che devi imparare a fare è cambiare la tua vita perché adesso c'è un'altra vita e immagino spero che tu l'abbia voluta cioè che non sia capitata per caso che sia stata una decisione pure tua e la decisione è quella sei disposto a farti stravolgere la vita per guadagnarci e per perderci tutta una serie di cose che ti fanno appunto cambiare vita perché se la risposta è no ci potevi pensare prima se la risposta è sì è inutile continuare a voler essere quello che di fatto non sei più perché poi essere padre non è una cosa che come dire in un certo senso una volta che l'hai deciso puoi fare finta che non sia accaduto un brutto incidente puoi fare finta che non sia accaduto una lesione anche personale al tuo corpo puoi trovare il modo per non farla pesare più ma essere padre è una cosina un pochino diversa soprattutto perché coinvolge un'altra vita un'altra persona e quindi la tua libertà di decidere trova un limite il limite nell'esistenza di quest'altra persona quei padri che non vogliono assumersi certi ruoli certi compiti certe responsabilità ormai non serve più a nulla a dirgli ci potevi pensare prima credo che valga la pena a dirgli tu non sai cosa ti stai perdendo nel non accudirlo nel non metterci le mani nel non passare con lui un tempo che ti sembra inutile che ti sembra noioso e invece pensa che è un tempo in cui quello lì quell'esserino lì ti sta conoscendo molti padri si lamentano più avanti che i figli non ne riconoscono l'autorità non ne riconoscono la presenza non li sentono ok non avvertono la loro presenza di genitore e c'è Stavide quando quello è nato e voleva proprio sentire la tua presenza ed era capace di sentire solo quello la tua presenza perché non parla piagna e mangia e fa la cacca non fa nient'altro ma è capace di sentire la tua presenza c'eri lì se in quei momenti te ne sei andato hai demandato a qualcun altro hai preferito dormire hai preferito ammazzarti di lavoro invece che stare appunto a casa a fare questo lavoro di cura e poi le conseguenze sono quelle ed è ripeto non è cosa che ti dice Lorenzo Casparini nei libri è una cosa che ormai tanti e tante hanno dimostrato in tutti i modi se ci sono paesi nei quali e vedi che torniamo a un discorso sociale nei quali il congetto parentale per i padri è obbligatorio cioè non è una scelta è obbligatorio ed è obbligatorio per mesi non per tre giorni significa che qualcuno ha capito che quel ruolo è importante e te lo devi assumere perché è importante per te ed è importante per questa nuova vita che è appena arrivata non sono scemi in certi paesi se ti obbligano a stare con tuo figlio quando è nato ti obbligano a pensarci per l'Italia serve uno stravolgimento culturale pazzesco ma tu cosa ne pensi tu voteresti per una legge del genere ma te credo a te corsa proprio io con uno dei miei due figli ho potuto vivere questa situazione perché ero senza lavoro e quindi come dire in quello senso sì ero obbligato a svolgere io certi compiti e ho capito quante cose davvero quante cose mi ero perso quante cose si capiscono quante cose si sfruttano anche per avere una più precisa conoscenza di cose di me stesso che altrimenti non avrei mai conosciuto perché gli uomini si crederanno sempre incapaci di provare certi sentimenti di avere certi atteggiamenti di tenerezza di cura se non lo fanno mai quando per certe circostanze sei obbligato a farlo per me è stato fondamentale in un gruppo di discussione tra uomini perché ci stanno i gruppi di discussione tra uomini mandate i vostri uomini ai gruppi di discussione tra uomini avere a che fare con un ragazzo padre che mi ha raccontato le cose che a 17 anni 18 anni faceva con sto figlio nato la compagna non è voluto sapere è tornata al suo paese l'ha lasciato con sto ragazzino e lui si è messo a badare a sto ragazzino mi ha raccontato delle cose che io le raccontavo e diceva quante cose mi sono perso io pensavo quante cose fantastiche questo ha capito di se stesso che invece io ci ho messo altri 15 anni a capirle e lui le ha capite subito a 18 19 sono esperienze che ti dicono molto di te stesso ma molti uomini pensano di conoscere tutto di sé perché hanno aderito a quel modello che abbiamo raccontato prima e in realtà non sanno niente di loro stessi e non appena si trovano di fronte delle esperienze veramente decisive hanno paura scappano sentono che c'è in ballo qualche cosa di molto grosso e non riescono ad affrontarlo ed è un gran peccato ed è un grandissimo peccato ma cosa rispondi quando dicono ma le mamme le donne non vogliono più farle madri vogliono obbligare gli uomini a fare tutto sì certo le sentite con queste cose sì è vero e ci hanno anche ragione perché sono 3000 anni che te fai un po' quello che ti pare sarebbe pure ora che fanno anche loro così ripeto non sono come dire è facile generalizzare dire le donne vogliono questo gli uomini vogliono quello è più difficile sforzarsi di capire cosa c'è dietro questa rabbia sociale questo desiderio di nuovo tanti femminismi lo raccontano da un bel po' e bisognerebbe starli a sentire di nuovo non è che ce l'hanno con te in quanto uomo ce l'hanno con una società che le obbliga a fare qualche cosa che potrebbe essere fatto molto più facilmente molto più serenamente in maniera molto meno frustrante se condivisa e invece tocca tutta a loro e questo non è giusto ed è vero non è giusto e quindi hanno perfettamente ragione a dire sì non voglio più fare la mamma perché se fare la mamma è quello di nuovo non si tratta di una cosa biologica si tratta del ruolo sociale se il ruolo sociale della mamma deve essere sto schifo che c'è sta adesso che faccio tutto io penso a tutto io le responsabilità sono tutte le mie e mi prendo pure i rimbrotti della suocera no allora io questo non lo voglio fare e ci hanno ragione non è questo cioè non è come dire la mamma in sé che non mi va di fare non mi va di fare la mamma così e questo è sacrosanto e questo dovrebbero capire gli uomini che nessuno ce l'ha col fatto non ci si inventa che fare la mamma è brutto perché qualcuno può essere stato anche brutto sicuramente ma ricordiamoci che queste critiche non sono rivolte agli individui all'individuo in sé ma al ruolo sociale e fare la mamma così che non mi sta bene che se devo fare la mamma devo perdere il lavoro se devo fare la mamma devo badare per esempio al figlio appena nato e a quell'altro grosso che diventa un figlio oppure quello perché devo badare pure a quell'altro è questo che non mi va che va al mattino tutti i giorni al lavoro doppato vestito capito e lì scopri che hai fisso due è quello che non mi va è che quello è sacrosanto certo che quella mamma non mi va chi andrebbe di farlo nessuno giustamente è quella cosa che non va e questo bisogna far capire non è che non mi va di fare la mamma in senso assoluto non mi va di fare la mamma così perché questa non è fare la mamma questa è fare la schiava e fare la schiava non piace a nessuno né uomo né donna guarda ti faccio un applauso grazie ma di che figurati no grazie queste sono cose che le donne dicono da tantissimi anni ecco perché io dico sempre io sono molto contento che i miei libri per esempio li comprino tante donne e poi li regalano agli uomini però dovrebbero comprarli loro cioè io lavoro per loro e con loro e cerco di lavorare a più possibile stretto contatto con gli uomini che è difficile come cosa a proposito però ecco tante donne già le dicono queste cose alle donne bisogna cominciare a dirle pure agli uomini ma quando li traduci in inglese così li compro per mio suocero e mio marino anche questo effettivamente è una cosa che mi ha molto molto stupito arrivano le richieste di traduzione alle case editrici però in inglese ci sono già delle cose notevoli che funzionano molto molto bene quindi se mi chiedi una bibliografia in inglese te la posso dare perché per fortuna sono paesi nei quali questi studi e queste riflessioni si sono già da molto da molto tempo rispetto all'Italia quindi per certi versi è più facile invece trovare cose in inglese ti posso dare i nomi di qualche autore un minimo di ricerca la posso fare e c'è un sacco di roba già disponibile non c'è bisogno di tradurre i primi spero che qualcuno lo faccia ovviamente però egoisticamente lo spero però dico in realtà esistono già lunghe tradizioni di questi studi in altre lingue per certi versi è anche più facile basta appunto formarsi un po' per me non c'è non c'è problema figuriamoci ma invece dei consigli di lettura per le mamme e i padri che ci ascoltano le mamme e i papà che ci ascoltano su come crescere educare dei bambini che pensano che hanno gli strumenti giusti per vivere in un mondo più paritario allora io così al volo ti do questo consiglio ho lavorato per anni con uno stupendo sito che si occupa di problemi genitoriali che è genitori crescono genitori crescono.com un sito veramente molto diverso dai soliti siti genitoriali per mamma e papà dove si fanno pochissimi discorsi pochissimi fronzoli diciamo così e si bada molto alla sostanza dei discorsi e lì troverete tantissime informazioni e come dire rimandi ad altre informazioni libri persone altri siti dove ci sono tanti strumenti per affrontare insieme tutti questi e i problemi dell'essere genitori il primo rimando che mi viene da fare è quello una miniera di esperienze consolidate di persone che si sono interrogate in maniera non banale su tantissimi problemi dell'essere genitori una cosa che mi piaceva molto infatti di quel sito è che collaboravano molte persone italiane magari ma che vivevano in altri paesi e che confrontando le esperienze che appunto si avevano di fronte ad esempio a leggi diverse abitudini diverse tradizioni diverse si faceva una profigua discussione proprio su questo su questo modo che abbiamo di giudicare certi ruoli genitoriali che sembrano eterni e immutabili invece basta così superare un confine tutto sommato fare pochi chilometri e scoprire che altrove le cose sono molto diverse e funzionano però funzionano bene bene grazie mille allora metterò nella descrizione di questo podcast tutti i tuoi libri il link al tuo sito al tuo blog che possiamo trovare se qualcuno ti vuole scrivere o comprare un tuo libro insomma sono abbastanza presente su tutti i social network no perché i social network sono tantissimi ma insomma sui principali basta cercarmi con nome e cognome io ci sono e sono facilmente trovabile e perché credo che sia il mio lavoro di filosofo rispondo con piacere a chiunque mi fa domande o mi chiede cose non ho non ho alcun problema a farlo insomma come vedi eccomi qua non è stato difficile no? contattarmi e convincermi a farti una chiacchierata con me quindi ecco ho questa stessa disponibilità veramente con chiunque per quello che posso lo ritengo una cosa fondamentale da fare e la faccio molto bene grazie mille per il tuo tempo e alla prossima grazie a te grazie a voi wow siete arrivate fin qui spero che questa puntata vi sia piaciuta e aspetto i vostri feedback potete scrivermi su instagram o mandarmi un'email tutte le info sono nella descrizione non vedo l'ora di sentire cosa ne pensate ricordatevi di schiacciare il tasto segui in modo da non perdervi le puntate future a presto e grazie ciao